Più di dieci furti e tutti ai danni del supermercato presso il quale lavora. E' quanto scoperto dalla polizia di Battipaglia che ha denunciato il dipendente di un'attività commerciale del posto. A segnalare gli episodi il proprietario del supermercato che ha consegnato agli agenti del commissariato battipagliese i filmati che hanno incastrato il dipendente in questione. Per lui una denuncia a piede libero per furto aggravato.